Buonasera cari telespettatori, siamo qui per presentare la grande serata di sabato 12 agosto alle ore 21.30 all'Arena BCC Sto fermo Sacleman, non l'hai da nuova troppo, in televisione stai fermi Sto fermo? Eh, perché so io che riprendo, ma mi ha smacchito il mezzo a riprendervi Ho capito, perché non c'è nessun altro, scusa? No, è tutto inferno ormai, ce lo so io, dai E invece sarà il 12 agosto il San Costanzo Show al completo, c'è la signora Rosa C'è la signora Rosa Sali dietro e con noi c'è il grande Leopardi che parteciperà anche lui Grande maestro, grande poeta Giacomino Ci racconta una poesia, ci narra una poesia a tutti i telespettatori Per prepararle alla grande serata, prego Più che una poesia, un invito Un invito Io farei un invito Noi siamo al mare e non ai monti, venite a Tre Ponti Pensa te, abbiamo scomodato anche leopardi per questa mezza fregnaccia Ma non so, fanno più le rime, leopardi, questa roba fatta rime Quella è elementare, un po' elementare Perché l'altra volta la signorina voleva le rime Ma chi? Lorietta Pedotti? E ora quella che ho capito No, di qualcosa di più Abriglia Solta, basta che è poetico Divertimento, dai Se volete ridere e divertirvi Sì Venite a Tre Ponti Pensa, pensa Signora, lei c'è qualcosa da suggerire? Cosa di, ma tutti i due mi appare il gatto e la volpe No, per sapere Niente, che vi aspettiamo tutti sabato 12 agosto alle ore 21.15 ai Tre Ponti Ai Tre Ponti All'arena BCC della Chiarruccia di Fano perché facciamo show mari di battaglia Solo, solo, soltanto lì ci sarà tutto il San Quasso Show al completo Tutti, tutti C'è anche lei, signor Leopardi, viene lei? C'è posto per tutti, non vi preoccupate, potete fare il biglietto anche sul posto Ecco, una bella rima Felicità è un bicchiere di vino con un panino e la felicità Vedi, bella? È bella qui Prendi nota tu, impara dalla gente purezza Felicità è un bicchiere di vino con un panino e la felicità Ecco, a posto Avrà successo, avrà successo, non si preoccupa Via, chiudo il collegamento, arrivederci